In Romagna, dove le carni grigliano di passione, sapete come si diventa così? Grandi amatori! Ma basta uno spiedino rustico, amadori! Benessere sta nello scegliere le carni migliori, in modo che lo spiedino spandi i suoi aromi e le bellezze vengano agli amadori. Genolo gustoso! Amadori per veri amatori. Perché nel palato che la natura vuole il suo sfogo.